Ecco a voi le cose che tutte le fidanzate fanno quando è gelosa Guardi Lenia, carina vero? Sì, carina Ah, è carina? Lo sapevo, ti piace, lo vedi, ti ci senti? Quando vuole attenzioni Beccare sto funghietto Amore, è un bacino? Amore, sì, guarda, sto proprio la scirovinare Nooo Sì, no, scusate, è un problema di tosse che purtroppo sa con questo tempo, con l'estate che ancora non arriva Sì Beccino? Amore, che cazzo? Quando le chiedi cosa vuole fare Ciao amore Ciao amore Senti, che cosa vuoi fare stasera? Per me è indifferente, decidi tu Vabbè, allora andiamo a mangiare i sushi, che io ho voglia di sushi, eh? Amore, il sushi non lo digerisco, l'abbiamo mangiato così tanto Però per me è indifferente, decidi tu Vabbè, allora andiamo al cinema, ci andiamo a vedere un bel film Il cinema, amore, non c'è niente di bello Però decidi tu, per me è indifferente Allora, sai che facciamo? Ci mangiamo una bella pizza e poi ci facciamo un giro al centro commerciale Che i negozi sono aperti fino a tardi e via, eh? Andiamo Amore, la pizza mi gonfia e poi al centro commerciale, ci andiamo sempre, che palle Però decidi tu, per me è indifferente Sono 18,70 euro Sì, un secondo, eh? Tieni Vabbè, ma lasciagli il resto Grazie signora Pure Quando ha freddo Amore, accendi i termosifoni I termosifoni? Ma tu sei matta? Ma estate piena, i termosifoni si rifiutano di accendersi Guarda, guarda lì come ci guardano, guardano Ma che è matta questa Quando arriva l'estate Va di retro, diavola Andate di là Andate Vai Quando dovete uscire Oh, amore, hai fatto? Andiamo, sei bellissima No, io così non mi piaccio, mi cambio Oh, così sei perfetta Andiamo, amore Andiamo, amore, 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 ma ti sei addormentato? Vabbè, riesco da solo Quando si incazza Se arriviamo in ritardo, poi mia madre ci fa il cazziatore Andiamo, dai Tu parli di ritardo? Nel 2009, al compleanno di mia madre, sei riuscito ad arrivare con un'ora di ritardo Per non parla del 2010, mi hai fatto aspettare dieci minuti dovevamo andare in pizzeria E nel 2013, anniversario di Marco e Lucia 43 minuti di ritardo Ma non stavamo nel 2019? Quando sceglie un film Oh, ma che fai? Io sto guardando, eh Oh, scusa, scusa Adesso chiudi gli occhi Forza Quando pulisce casa Non ti muovere da lì Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Andate subito ad attivare la campanella degli aggiornamenti Like, commenti e fate iscrivere tutti i vostri amici al canale Voglio ringraziare Leonardo Marchetti, grande tiktoker Seguitelo ed iscrivetevi ovviamente ai suoi canali Che è sempre Leonardo Marchetti Non vi potete sbagliare La nostra love, la my love, ormai anche la vostra love Alessia E un ringrazio speciale a Mr. B Che tanto sarà blerato, quindi non capirete chi sarà dietro alla telecamera Voglio salutare Francesco Ferraro Federico Nati E Gabriele Mancuso E se non lo sai Salo sei!